allora volevamo sapere se voi sapete che cos'è l'amiloidosi come si chiama amiloidosi zero mi ripeti la parola perché amiloidosi amiloidosi no amiloidosi esatto no non so cos'è qualcosa che riguarda i movimenti del corpo non so potreste ordinarla al ristorante non credo non è una una malattia non lo so meno pensavo ma non ho idea di quale malattia grazie a dio non la conosco va bene l'accumulo di amiloide grazie grazie